Ciao a tutti Gialicorni, è maggio, studente fatti coraggio, al prossimo ciao Eccoli qua Signori Francesco Posa, Sistiana, Gialissa, G Benvenuti signori, ciao qua, ciao, mettetevi dentro la nostra linea di innovazione, buongiorno, volete salutare anche Frank? Bene signori, chi vi piace di più? Giuria popolare, Francesco Posa? E qua urliamo anche noi, sì Gialissa, G Gialissa, G Io ho tenuto per te, ma chi ce lo dirà sono i nostri Storm Troopers di Star Wars, prego A noi la busta, consegnatela a Frank Matano Vai Perfetto Un attimo di suspense Frank, vuoi farlo dire a Tess che prima aveva una bella voce? Vai Tess And the winner is Francesco Posa Francesco Posa, prenditi il premio e vieni in mezzo ai tuoi fan a goderti Web Show Awards 2015 Vuoi fare un selfie? Volete fare un selfie con Francesco Posa? Sì, fallo Fai un selfie È uscita Perfetto, salutiamo i nostri top vlogger dell'anno, grazie per essere stati qui con noi Allora E A